Maltrattava la convivente anche quando era incinta, condannato a tre anni di reclusione con interdizione per cinque dai pubblici uffici. Si è concluso con una dura condanna il processo penale a carico di un cinquantenne imprenditore di Monteforte Irpino, accusato di aver maltrattato per anni la giovane convivente trentenne di Altavilla Irpina, anche quando la donna era in attesa di un bambino. La vittima esasperata dal comportamento dell'uomo un anno fa trovò finalmente il coraggio di fuggire dalla sua abitazione per recarsi a casa dei genitori, presentare denunce e affidarsi al suo avvocato Danilo Iacobacci. La procura della Repubblica è subito intervenuta applicando il codice rosso e dopo la misura cautelare del dibieto di avvicinamento applicata all'uomo sin dall'inizio, che lo stesso ha anche violato, si è giunti alla fine di un incubo che la donna è stata costretta a vivere per tanto tempo. Dopo un serrato dibattimento dinanzi al tribunale penale di Avellino, preseduto dal giudice Galeota, è stata accolta la richiesta di condanna del pubblico ministero. L'imprenditore recidivo è stato condannato a tre anni di reclusione all'interdizione per cinque dai pubblici uffici. La pena inflitta al cinquantenne è di un anno superiore rispetto alla richiesta del PM, che ne aveva chiesti due. L'uomo è stato anche condannato a risarcire la convivente, costituitasi parte civile, e a pagare una provvisionale immediatamente esecutiva.